grazie marcello abbiamo visto anche quest'altra carrellata di strumenti per gestire il cambiamento magari il prodotto di champagne potranno vedere come trovare nuovi mercati alternativi in base a quello che ci diceva prima alessandro in realtà si pone il problema come adeguarsi al cambiamento è una delle domande che abbiamo posto anche col sondaggio io andrei a dare un'occhiata molto disfuggita ai risultati del sondaggio ringraziato ancora marcello per il suo intervento e poi a seguire dare un'occhiata se ci sono domande dai presenti che qualcuno ha fatto delle osservazioni andremo a breve a vedere allora vado a vedere i risultati del sondaggio abbiamo quasi tutte persone che già hanno visto dei nostri webinar ringraziamo ancora chi è venuto per la prima volta abbiamo una grossa fetta di partecipanti professionisti che sono residenti all'estero mentre la stragrande maggioranza di presenti è residenti in italia qual è il principale cambiamento rispetto alla seconda metà del 2020 che hai riscontrato quest'anno nel tuo lavoro allora un grosso cambiamento in effetti è la possibilità di tornare a viaggiare quindi questo è importante qualcuno comincia già anche a pianificare io sono tra quelli fortunatamente pianificare ancora le fiere in presenza vedremo come andranno abbiamo cambiato l'abitudine al digitale si è ripreso le attività del commercio quindi fiducia un bel segnale sempre più digitali anche troppo qualcuno avrebbe anche voglia di tornare un po più nelle attività fisiche quindi i cambiamenti sono la parte digitale è stata predominante o l'integrazione del digitale è stata predominante per la maggior parte dei presenti l'importanza degli incontri virtuali è stata percepita come un effetto determinante nel modo di cambiare il modo di lavorare cosa che era già partita pesantemente anche l'anno scorso qualcuno vede meno ottimismo quindi abbiamo visto opinioni contrastanti qualcuno più ottimista qualcuno meno ottimista sulla ripresa delle attività perché in realtà abbiamo visto e lo stiamo vivendo quotidianamente se guardiamo un telegiornale che ormai diventa un po anche ansiolitico tutte le scelte che si stanno facendo varianti mica varianti si riprende si richiude pass mica pass green pass piuttosto che mica green pass cosa puoi fare con i pass quali sono le istruzioni se vai a fare quell'attività in quel mercato in quel paese se cambi altre passi la frontiera se vai ci sono un po di incertezze che sicuramente minano il libero libero spostamento e anche ovviamente lo spostamento in chiave business quindi questo è sicuramente una questione di impatto e anche di trasformazione in modo di lavorare quindi diciamo che il digitale è stata una voce vista da moltissimi dei presenti qual è il tuo business quanto è stato influenzato dalla pandemia questa domanda probabilmente ti sia confuso nel dirla perché la domanda è quanto sono stati influenzati dagli aspetti normativi il di là della pandemia si è corretto quindi esclusa la pandemia quindi si ed è ed è comunque un bel 60 per cento che comunque è stato impattato dalla dalla trasformazione quindi tolta la pandemia che già ci ha messo del suo c'è stata comunque tutto il resto quindi è pesante e pesante come situazione e quindi la mette la dice lunga se consideriamo poi anche l'altro aspetto l'analisi dei big data un 50 per cento secco ritiene che i big data consentono di poter valutare la concorrenza mentre invece il 21 per cento ci permette di dare i dati di importazione e previsioni e piuttosto che i fattori di rischio paese sono gli altri aspetti che sono stati visti come parimenti importanti però diciamo che la l'episodio dell'evoluzione del del paese è stata al pari merito con i dati di importazione abbiamo poi chiesto quanto è capitato di dover rivedere il modello di business grazie a mutate condizioni di mercato quindi quelle situazioni un po tragiche nefaste come quelle che abbiamo potuto vedere di cambiamento improvviso del mercato che ci ha raccontato negli esempi precedenti alessandro giusto quindi vediamo che qualcuno è stato costretto diverse persone dei presenti quasi tre quarti sono stati costretti a dover rivedere i piani per eventi esterni e questo è la dice anche di quanto sia importante per la nostra professione visto che la maggior parte dei presenti sono expert manager professionisti quindi vale anche per gli impeditori ma vale anche per noi come professionisti il dover rivedere i piani modelli di business per adeguarsi a quello che sta cambiando intorno a noi tra gli ultimi aspetti devo vedere la tua opinione sulla guerra dei dazi no quello che abbiamo visto negli ultimi anni l'abbiamo visto per la parte della cina con l'australia ma l'abbiamo visto anche con l'europa in realtà con gli stati uniti e non solo ma anche cina stati uniti questa questa situazione come la vediamo allora una grossissima fetta dei partecipanti ci dice che è sempre possibile che ci siano degli effetti collaterali sul che influenzano negativamente il business quindi mettere in conto che qualcosa potrebbe cambiare è sempre qualcosa da tenere sott'occhio perché il cambiamento è sempre dietro all'angolo dobbiamo stare sempre vigili e attenti un'altra fetta dice che è sempre possibile che ci siano degli effetti collaterali che influenzano positivamente gli ottimisti che dicono se c'è un cambiamento non è detto che venga tutto i vari vengono per muocere ci può essere un cambiamento in positivo alessandro ci ha mostrato come dalla crisi ad esempio del champagne verso la russia potrebbe aprirsi un magari un un territorio positivo di sbocco per i nostri per dire prosecchi verso quello stesso mercato quindi quello che capita a un settore o una mercologia potrebbe essere vantaggioso per altri in altre o per un paese potrebbe essere vantaggioso per altri poi effetti più piccoli ci dicono che possono influenzare sia in positivo che negativo dipende dagli interessi politici e qualcun altro dice che è sempre possibile ci siano effetti collaterali che influenzano in una maniera o nell'altra il business però il grosso si è visto come sicuro che ci possono essere cambiamenti anche negativamente che influenzano negativamente il business quindi lo stare vigili diventa determinante vediamo che cosa consiglieresti per aiutare ad anticipare i possibili futuri cambiamenti qualche tipo di risposta ora bisogna leggere tanto di geopolitica comportarsi con i partner stranieri monitoraggio dei mercati quindi controllo continuo dei dati fondamentalmente professionalità documentarsi con un buon lavoro di intelligence quindi verifica dei dati verificare quello che succede indagare 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 diversificare diversificare e l'altra cosa l'altra domanda e tenere sempre l'attenzione vigile sui cambiamenti dei mercati scambiare il cambio di informazioni studi dei dati codividere i dati di scenario quindi direi che al di là del come ti confronti attraverso persone di fiducia o come fai il tuo lavoro però per prevenire scenari di futuri nefasti lo studio dei dati la vedo dalla dalla mole di risposte è abbastanza predominante quindi guardare queste queste quello che succede studiare guardare osservare e analizzare i dati quanto ritiene che la tua azienda utilizzi al meglio le informazioni importanti per il proprio business abbiamo visto che la maggior parte della dell'azienda ritiene che sì si potrebbe fare meglio quindi i dati sono importanti ma c'è spazio per migliorare invece qualcuno un 16% dei presenti dice che i dati sono gestiti sono gestiti bene ma la stragrande maggioranza pensa che si possa fare meglio diamo solo l'acchiata all'ultima domanda come si sentono i presenti allora analista dei dati allora abbiamo visto che il 57 per cento si sente più analista dei dati mentre un 42 per cento si sente 42 e 9 quindi 43 per cento si sente più praticone lavorando un po sulla base di esperienze personali su attività fatte io direi che adesso possiamo passare alla fase di domande aprirò i microfoni a tutti quanti ma prima vorrei chiedere ai presenti più per alessandro direi in particolare secondo lui perché la cina ha deciso dopo aver fatto tanti lavori tanti sforzi per creare degli accordi commerciali con l'australia di chiudere questa porta aumentare i dati quindi entrare in conflitto con un paese su cui aveva creato accordi fino al momento prima e che cosa può aver determinato questa scelta e secondo lui se questo tipo di scelta è una domanda più insidiosa difficile se questo tipo di scelta potrà avere altri sbocchi su altri mercati altri prodotti altri paesi cosa ci dici alessandro allora domanda ostica perché come dire a breccia in futuro spero di dover richiedere un visto e quindi la mia risposta ma anche nella direzione di non precludermi la possibilità di entrare in cina no sto scherzando ma in realtà diciamo che ci sono più motivi c'è il motivo ufficiale ovvero che la cina accusato l'australia di fare dumping verso la cina pare dumping vuol dire vendere il vino a prezzi non di mercato quindi a prezzi sotto al prezzo di mercato il che probabilmente anche vero ma certo non è esclusiva dell'australia perché l'unione europea con i fondi agricoltura con gli ocm eccetera aiuta le cantine europee quindi italiane francesi tutte le cantine dell'unione europea a promuovere i propri vini in cina formalmente è un promuovere e non un vendere però sappiamo che come dire difficile andare ad individuare una linea nettissima però al di là del motivo reale considera che uno motivi da un lato anzi diciamo motivi legati al mercato e dal prodotto reale vero in sé cioè la fortissima crescita che vini australiani hanno avuto negli ultimi direi due anni più o meno andando a scala scalfire il primato dei francesi ed in cina quando cresci troppo il sistema è fatto in modo tale da soprattutto ad un esterno per cominciare a metterti un po i bastoni tra le ruote in questo caso e ingresso in maniera pesante due la cina sta comunque puntando molto sulla produzione interna quindi una un'introduzione di una vini in competizione con quelli cinesi perché quelli francesi non lo sono in competizione con quelli cinesi quelli australiani per un livello di prezzo e non solo insomma per altre caratteristiche possono essere in competizione con quelli cinesi quindi è stata anche una mossa probabilmente protezionistica poi rumor se voci chiaramente non confermate parlano di guerra anche politica l'australia non ha mai condannato le rivolte di hong kong questo dice allora questo ha significato che non lo so chissà eccetera però probabilmente c'è sia una parte economica e quindi produttiva legata strettamente al mondo del vino ma non solo perché in realtà riguarda una lago alimentare quindi noi abbiamo parlato di vino ma non è una mossa legata esclusivamente al vino ma dall'altro ci sono anche giochi politici ma questo lo sappiamo bene sempre nel mondo del vino faccio un esempio di qualche mese fa quando gli stati uniti c'era ancora bush e c'era ancora trump ovviamente hanno messo i dazi sui vini francesi per una questione legata ad airbus eccetera eccetera per motivi prettamente politici e di una ripicca politica punto geopolitica sicuramente non è nelle nostre mani se va bene nelle mani dei nostri governanti ma non non certo nelle nostre di produttori sì sì questo in realtà mostra come noi siamo una pedina di una scacchiera più ampia e per quanto tu fai tante mosse per muovere la tua piccola azienda piccola grande che sia però tanto che un'azienda anche importante come i numeri di un paese se poi quel paese viene bloccato bannato sanzionato o a soggetto a dazi per l'import verso il paese dove aveva sbocco ovviamente grande o piccolo che tu sia tu accusi il colpo non c'è verso il però e quindi qua si pone il problema per come affrontare il mercato noi abbiamo visto prima l'analisi dei dati sicuramente importante anche per tutte quelle aziende che fino a questo momento avevano uno sbocco che fosse la russia mi ha visto prima quello champagne lo champagne oschi come si chiamava quindi qualcuno che fa protezionismo per dire a casa mia privilegio i vini prodotti da me quindi l'alternativa allo champagne con lo champagne locale o in cina che per qualsivoglia motivo politico o economico decide che vuole bloccare mettere un argine alle importazioni da un paese che sta prendendo troppa forza nelle esportazioni nelle importazioni in cina sicuramente chi ha puntato molto su quel paese deve rivedere e quello sicuramente sono i dati quindi strumenti come quelli che abbiamo visto prima quelli proposti da marcello con esport planning quindi macro analisi di dati di informazioni di import di potere d'acquisto di dati di prezzi e quindi anche di potenzialità possono costituire per l'export manager che si trova oggi oggi per parte di cina di russia ma potrebbe essere chiunque anche l'italia che un bel giorno arriva il dazio e che il suo prodotto non si vende più da qualche parte deve cercare il mercato alternativo un qualche cosa vi permette di scannerizzare il mondo il mercato con quello che c'è disponibile aggregando in modo importanti dati poter cercare alternative sicuramente importante vuoi aggiungere qualcosa marcello sull'argomento no volevo rispondere ho visto in chat una considerazione di una di un partecipante a me pare che le pmi questo dice appunto il l'ospite che le pmi che ti dice guidami tu nei mercati migliori sia pressoché sparita hanno idee più chiare se mai chiedono dati info dei mercati o aree già preselezionate e lorenzo pone questa questa domanda lorenzo guglietti esatto bene ma allora probabilmente le aziende stanno mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per avere informazioni sui mercati quello che volevo segnalare è che il nostro approccio non è quello di il consulente decide per l'azienda il mercato migliore ma è proprio un processo diciamo che si fa insieme all'azienda quello di vedere attraverso un sistema informativo le migliori opportunità e condividerle con l'azienda anzi può essere utile per imprese che già operano su mercati esteri andare a verificare come questi mercati esteri sono posizionati in quelle che noi chiamiamo il ranking delle potenzialità e può essere un utile esercizio proprio per segnalare in maniera possibile oggettiva e documentata alle imprese che magari sono hanno un portafoglio mercati non ottimale sono magari focalizzati su alcuni mercati che stanno offrendo potenzialità ridotte vuoi per un tema di punto come si diceva di prezzi vuoi per un tema di mercato saturo mercato non ancora sviluppato adeguatamente e e quindi diciamo così anche il portare questi strumenti è semplicemente un modo per rafforzare la relazione con l'impresa non diciamo proporre una ricetta preconfezionata ma proprio avere la possibilità di interagire su un piano il più possibile oggettivo sì in realtà quello che dalla domanda sembrava si percepiva come se le aziende ormai sanno sono un po meno ingenue no nell'analisi dei dati hanno delle esplicative forti e ci chiedono di con cognizione di causa io ho interesse a non prendere un pacchetto preconfezionato vai qui vai lì come paese ma ho già delle fatto delle prescelte mi serve una mano per fare il pezzo che mi manca ma ho bisogno di strumenti giusti per farlo quindi sembrerebbe l'idea di c'è meno ingenuità se vogliamo o c'è più maturità la gira girando la frittata è sempre quella da parte delle aziende perché con un anno e mezzo di fermo con il covid ha creato o di situazione un po più complessa le aziende si sono ingegnate per cercare soluzioni possibili alternative vedo che c'è un'altra domanda sull'alcol no qui in questo caso c'è janet che ci chiede e dice il vino senza alcol mi ricorda di una bevanda che avevo molto successo in giordania dal nome di vinto e vinto non la conosco e tuttora va molto bene in birra senza alcol e c'è il salame anche ci fa ad esempio il salame senza maiale allora parlando di food e di opzioni che non costituiscono non sostituiscono originali ma tamponano le richieste del mercato come vediamo quindi da questo punto di vista le possibilità di fare abbiamo visto il gelato senza latte senza il latte anche senza lattosio e la birra senza alcol il vino senza alcol come possiamo porci come possiamo cavalcare o gestire al meglio se siamo produttori queste varianti queste nuove richieste del mercato che idee avete a riguardo questa domanda la faccio per entrambi o come possiamo individuare quei dati dove dove andare come muoverci allora io intanto da parte mia ti dico che non ci vedo assolutamente niente di male a tutte le cose che ha scritto ma non solo appunto no e questa è anche la visione di ora stavo cercando avevo gli appunti non trovo chi è che lo ha detto però ecco l'unione italiana vini a proposito della proposta europea ha detto parole testuali leggo dice vabbè anzi no l'unione italiana aveva vini si dice aperta a permettere la de alcolizzazione per evitare virgolette che possano divenire business di altre industrie strane al mondo del vino e che dunque siano le imprese italiane a rispondere alle richieste di mercato ovvero se c'è una richiesta di mercato di vino senza alcol di birra senza alcol di salame senza maiale o di mozzarella senza latte ma vado anche un po così random se la richiesta di mercato c'è qualcuno che arriva a soddisfarla c'è il rischio è che arrivi qualcuno che non c'entra niente con quel prodotto e quindi faccia magari ancora danni più grandi quindi sicuramente non è da ignorare non è da dire a no il vino è così da millenni e così deve rimanere punto perché è una visione una visione miope se le cose cambiano tra l'altro il vino de alcolato esiste non è che non esiste esiste già al momento non si chiama vino ma il prodotto esiste mi vengono in mente da banalmente dagli spumanti per bambini ma quello è una bibita frizzante però il chiamiamolo quello che oggi è il nostro vino a cui è stato tolto l'alcol esiste già è fattibile solo che non ci puoi scrivere vino sopra il rischio è quello di creare confusione nel mercato però d'accordissimo sul fatto che se la domanda di mercato c'è o ci arrivi te o ci arriva qualcun altro l'abbiamo visto anche con altri prodotti abbiamo io vedo al supermercato oggi come oggi vedo tantissimi braciole polpette o hamburger senza la carne no così come vedo il latte senza lattogio che però in effetti dici se poi se c'è la persona che non vogliono il lattogio e cribio o ti togli del mercato o comunque consideri che quella richiesta di mercato c'è che del mercato la richiesta la pone e qualcuno la soddisferà se non la fai te lo farà qualcun altro esatto e colgo il link marco proprio per l'hamburger che si può trovare o l'hamburger diciamo vegano quindi che ha legumi o cose non animali all'interno o addirittura l'hamburger beyond meat è un'azienda che fa carne sintetica quindi è un prodotto che non so neanche se definire carne ma è una carne che non viene dalla mucca per capirci è un prodotto si è carne prodotto elaborato carne non lo so se posso dire carne è in questo che la legislazione della carne dei vegani perché in realtà se il vegano lo faceva per una questione naturale naturalistica fatta da prodotti vegetali quali non c'è neanche quello però non però non è ucciso nessun animale per farlo quindi nessuno ha sofferto nessuno del mondo animale ha sofferto perché tu possa mangiare è un equilibrio molto molto delicato sicuramente e pone anche il limite su che cosa dopo ammettere non ammettere come chiamare come dicevi te noi potremmo avere il vino senza alcol poi il problema è oggi come oggi non lo classifichiamo vino una volta che lo mettiamo senza vino cioè dov'è il limite per cui ancora video non è vino c'è come declassificarlo perché se non in italia non lo chiamassimo vino e in francia o dall'altra parte lo chiamassero vino in realtà ci soffrono una fetta di mercato perché potrebbe essere un problema quindi bisogna anche cercare di muoversi coerentemente con la domanda ma anche coerentemente col mondo quindi è un tema difficile bene io direi che come domande in questo momento non è altro andiamo a vedere sulla chat se qualcuno ha scritto qualcosa se no aprirei la chat a tutti i presenti per cui chi volesse fare delle domande le può porre direttamente sì qualcuno diceva che il vino senza alcol è il mosto però sì è una fase intermedia un po un po monte nel processo negli us ci sono i wine posso intervenire sì 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 con alcol al 3 per cento sì ciao ciao a tutti scusate non ho il video ma da me festa e oggi sono appena tornata dal mare sono presentabile sì ho ascoltato con molto interesse gli interventi e mi è venuto in mente più una testimonianza piuttosto che una domanda e per quanto riguarda proprio cambiamenti repentini di situazioni di mercato legati anche a geopolitica e a decisioni overnight non so forse qualcuno di voi o tutti voi sapete cosa è successo nel 2017 nel golfo arabo quando all'improvviso quattro nazioni hanno deciso di isolare completamente il qatar e questo è successo veramente dalla 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 sera la mattina ma esattamente così e cosa è successo in quel caso lì ad esempio si sono ci sono state tanti risvolti negativi legati ad esempio alle aziende che si erano vincolate con distributori a dubai concedendo l'esclusiva per tutti i paesi del gcc si sono ritrovati a non poter invece più esportare negli altri paesi perché comunque gli altri soprattutto il qatar non comprava più dalla da dubai anche adesso che politicamente è stato annunciato che che questa diciamo blocco non c'è più ma in realtà ancora eh sia per una questione di di ehm diplomatica per non aver sistemato pure tutte le cose sia per una questione di relazioni gli arabi sono persone che se la prendono tantissimo non danno seconda opportunità quindi i catarini non difficilmente riprenderanno importare dal dubai per cui uno dei consigli che do sempre alle società quando date esclusive di distribuzione cercate di contenere al massimo i territori sui quali concedete queste distribuzioni perché poi succede che eh un fattore geopolitico come quello che è successo nell'area qua compromette poi l'esportazione in maniera pesante dall'altro lato ad esempio noi come 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 società di consulenza abbiamo un po' beneficiato di questa situazione proprio perché si sono aperte all'improvviso opportunità di mercato per aziende che non erano presenti nel GCC e che quindi sono andate a coprire eh quelle esportazioni che arrivavano da dubai sul mercato del Qatar e siamo riusciti a portare nuove aziende nuove piccole aziende italiane a importare direttamente dove invece prima non non riuscivano ad arrivare perché il mercato era comunque coperto in maniera pesante da da Dubai ecco la mia domanda per Marcello era anche nella loro ehm analisi di tutti i dati eventi come questi che sono eventi proprio prettamente legati a guerre a situazioni eh non tanto di eh guerre commerciali di dazi o cambi di eh nome o percezione di prodotto ecco queste questa realtà qua sicuramente avranno un rating immagino comunque avranno un peso quando si deve decidere o insomma come come si classificano i paesi certo sì come dicevo mh il tema rischi è un tema che il nostro sistema informativo misura in in vari modi e e quindi l'impresa insieme al consulente può decidere di calibrare le opportunità legate appunto non so al valore delle importazioni del mercato all'importanza della fascia alta di prezzo le previsioni di crescita con quelli che sono temi di rischio e quindi di eh affidabilità del mercato con quelli che sono i temi di accessibilità prima si parlava appunto del del tema accessibilità in chiave appunto di di dazi oppure di quelle che possono essere barriere barriere tecniche e e quindi il la scelta mercati dovrebbe combinare quelle che sono appunto opportunità con rischi e e temi di accessibilità e mh il sistema informativo in particolare nel caso dei rischi appunto come vi dicevo prima va a a utilizzare tutto il set informativo che riguarda il rating delle agenzie piuttosto che le valutazioni di rischio sace o di di cofas eh piuttosto che il rischio di cambio che a nostro giudizio è un elemento particolarmente rilevante per un esportatore perché eh il fatto che un paese sia a rischio deflazione della propria valuta può essere un elemento che da un giorno all'altro eh impoverisce il potere d'acquisto del consumatore locale e quindi rende inaccessibile per un esportatore italiano quel mercato quindi il rischio di cambio è un altro elemento di rischio e e quindi eh stiamo cercando di di mettere a disposizione del consulente tutto questo set di di indicatori. Immagino che sia un lavoro veramente molto complesso quindi dico complimenti per esservi diciamo concentrati su questo perché come dicevo la stessa situazione può essere negativa e positiva allo stesso tempo quindi eh come chiude delle situazioni per alcune imprese ne apre per altre quindi insomma non deve essere semplicissimo mettere insieme tutte queste queste informazioni. Eh questo è tutto. Grazie. Grazie. Io segnalo Laura ci sta parlando dal dal Qatar questo è giornata di festa tra l'altro di di riposo in Qatar il venerdì. La ma in effetti da dagli osservazioni fatte Laura da quello che citava anche Alessandro in realtà il fatto di rendere i vini possibili o col chiamabili vino anche senza alcol in realtà aprirebbe delle opportunità verso i paesi arabi dove oggi il fatto che ci sia l'alcol li preclude e e e corretto o sbagliato? Com'è tu che sei in un paese arabo? Com'è questa situazione? Ma ci sono ma sicuramente perché ci sono già dei prodotti eh fino al supermercato si vedono questi spumanti non non alcolici e non sono prodotti italiani più delle volte sono non so anche prodotti dell'area qua di di paesi eh qui insomma della zona quindi sicuramente può aprire può aprire un mercato fanno anche queste bottiglie che sono simili bottiglie di champagne quindi ci mettono anche attenzione nel nel packaging per renderle più simile possibile questo sicuramente apre un mercato sicuramente così come il salame senza maiale insomma ci sono abbiamo abbiamo la mortadella qua che vendono la chiamano mortadella ma in effetti mortadella ben poco questo sicuramente però ci sono delle altre aree che io non so se sono se sono valutate ad esempio legate alla alle condizioni eh di salute dei dei paesi delle persone che vivono in determinati paesi perché ad esempio nella nostra area e il Qatar è un esempio ma un po' così in tutti i paesi arabi la percentuale delle persone col diabete sono il trenta per cento altissimo quindi io con i miei clienti e con i miei partner con i miei collaboratori in Italia chiedo sempre individuatemi prodotti adatti a questa fascia di clientela quindi eh e vedo che c'è poco c'è poca poca risposta e non non probabilmente non so se l'alimentazione legata a determinate patologie sia una cosa studiata ho visto quello che è successo col glutine fino a quando non c'è stata un'ondata ideologica a portare tutto gluten free fino a tre quattro anni fa era difficilissimo trovare prodotti che fossero gluten free per le persone celiache io ho avuto qua anche team persone parti di team eh di un'azienda con le quali abbiamo fatto fatica a trovare il prodotto qualche anno fa adesso c'è l'inflazione dei prodotti sul al supermercato quindi penso che lo stesso succederà coi prodotti dedicate ai diabetici quindi con senza zuccheri insomma con controllo della glicemia si vuole quel minimo di massa critica per far capire che il mercato è attrativo e a quel punto si muove in tanti in realtà come spesso succede chi si muove prima ha un vantaggio competitivo e non da poco che poi cerca di tenere però è importante noi adesso ad esempio stiamo facendo proprio sull'onda di questa nostra sollecitazione dal paese eh abbiamo individuato un'azienda che ha un prodotto uno zucchero che ha eh zero calorie e zero ehm indice glicemico adesso abbiamo appena ricevuto la scorsa settimana le campionature abbiamo contattato un po' di un po' di fabbriche locali di dolci e cose varie che proveranno il prodotto per vedere se funziona quindi questo per dire che talvolta la funzione dell'export manager o del consulente anche sul posto è anche quello di aiutare le aziende a creare magari prodotti nuovi a pensare anche a a soluzioni o cose per le quali magari non si era prestato attenzione citavate il gelato abbiamo un cliente col gelato vegano e eh c'è molta attenzione qua proprio per il fatto che poi anche zero zucchero quindi per il diabete paesi con anche bambini cioè il ventotto per cento dei bambini nasce già col diabete già da piccolo quindi non è frutto di una eh alimentazione che ha prodotto il diabete dei primi anni di vita perché se già nascono col diabete no 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 qui c'è un grandissimo problema legato alla alla cultura locale che è quella del matrimonio fra cugini tra primi cugini e quindi questo comporta poi tutta una serie di problematiche di salute pesanti e il diabete è una macchia che si trasmette quindi c'è una fortissima presenza e non solo in Qatar in tutti i paesi arabi comunque dove dove c'è questa cultura di di matrimoni combinati fra primi cugini sì tra l'altro Venera ci segnala che in Romania ad esempio ci sono degli spumanti frizzanti senza alcol che in realtà non sono fatti per gli adulti per superire allo spumante eh ma togliendo l'alcol per magari per volere di guida per di di alcol di 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 ubriacature ma sono fatti per le feste dei bambini no e questo quindi li fanno con dei sapori tipo paragola lamponi eccetera è è vero che questo tipo di prodotto avrà poco a che fare con lo spumante canonico come lo intendiamo noi ecco questo esatto questo caso qui ci sono anche in Italia gli spumanti analcolici per i bambini questa roba qua ma lì di 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 vino dentro cioè di uva dentro non ce n'è cioè bisogna definire anche il confine cos'è uno cos'è l'altro perché bisogna definire anche il confine ma mi ricollego sia a quello che diceva Laura che ringrazio e anche Bruno dei wine cooler negli states è quello che dicevamo prima cioè se c'è un mercato qualcuno che arriva a coprirlo c'è magari l'unione europea non permettendo di scrivere vino ad un prodotto che ha acqua aggiunta o che è stato de alcolato protegge i produttori di vino ci mancherebbe ma aiuta un sacco il produttore che ne so cileno australiano californiano non lo so di dove che invece per legge può scriverci wine anche se ha due gradi alcol e quindi quel mercato se lo prende lui quindi io non vorrei mai essere quello che decide fin dove si deve chiamare vino e fin dove non non si può chiamare vino ma a tutelare troppo rischi di restare isolato sulla tua isia io faccio il mio prodotto così è il mercato va da un'altra parte chi se ne frega ma io ho tutelato la produzione storica chiaramente non puoi fare neanche il contrario apriamo scriviamo mozzarella di bufala anche su quella fatta col col tofu e allora snaturi allo stesso modo il prodotto quindi è un equilibrio difficilissimo in cui mi permetto di dire noi come associazione sicuramente non siamo chi decide ma entrare nella discussione dire la nostra e cercare insomma per quanto possibile di pilotare la decisione lo possiamo fare lo dobbiamo fare anzi lo stiamo facendo te marco giuseppe insomma siete attivi in questo quindi mi permetto di dire che chiaramente poi la decisione la prende bruxelles però siccome l'italia è il primo produttore in parlo di vino in questo caso in al mondo quindi anche in europa ovviamente il parere dell'italia non è esattamente l'ultimo anzi è probabilmente il primo di quelli che viene ascoltato quindi singolarmente alessandro marco non può non possiamo far niente ma come associazione direi che è importante fare ascoltare la nostra voce essere tavoli di lavoro ci permette di portare dei dei giudizi interessanti valutabili perché sono l'espressione di tanti che lavorano in quel settore possono essere appunto degni di nota siamo stati a qualche tavolo di lavoro e questo è degno di nota ed è da da sperare che possa avvenire sempre più spesso proprio perché uno dei compiti dell'associazione è proprio quello di far massa critica per per far capire anche le esigenze di chi fa export quindi in questo caso sì è proprio come dici te alessandro dobbiamo ci permette di farci valere o farci sentire e fare un po' anche gli interessi dei dei produttori e del e chi lavora sull'export per i produttori quindi sì assolutamente sì anche perché ripeto se il mercato esiste qualcuno arriva a coprire quella quella richiesta quindi meglio che siamo noi i microfoni sono aperti chiunque voglia parlare può alzare la mano può può dire la sua se no oppure chiediamo a massimo cugusi come è andato stamattina all'intervento sulla presentazione stampa se ancora collegato gli chiedo volentieri la parola massimo cosa ci racconti buon pomeriggio a tutti innanzitutto è stata una mattinata intensa insieme al presidente abbiamo fatto questa conferenza stampa erano presenti anche confindustria col diretti con cooperative e con fapi e cna e poi in remoto c'era sorretti pmi perché avremmo anche una sezione un premio per le migliori reti export c'è stata una bella copertura adesso stiamo vedendo i primi lanci d'agenzia ha fatto un bel lancio ansa e così via ciò che è stato apprezzato è come dire il posizionamento dell'idea che abbiamo provato a dare cioè non è un pre un'idea non è un premio che viene fatto interpolando dei dati eh dovunque possono essere estratti un po come il meccanismo del premio del sole ma invece è un premio che premia la storia di successo dietro la quale c'è un'azienda dietro la quale ci sono persone e deve servire a spingere eh il sano spirito di competizione di emulazione in chi ancora non ha eh deciso di confrontarsi con un mercato estero e magari imparare dagli altri questo è un altro pilastro del progetto serve a migliorare se stessi eh questo è stato credo colto dalla eh dalla stampa che era che era presente adesso noi abbiamo realizzato un po' di materiale che in questo momento in produzione quindi avremo un po' di footage che è stato montato diventa video eh interviste anche ai rappresentanti delle organizzazioni di di categoria l'idea è quella di stiamo facendo un pilota vediamo di sperimentare farlo diventare un modello in modo che ciò che andremo a fare poi sulle altre aree abbia una sua eh omogeneità eh ultimo ma non ultimo quello che abbiamo chiamato con Beppe un eh business talent show cioè in realtà il fatto di aprire oltre che alla giuria tecnica anche ad una giuria che di fatto è il mercato no che che è quello che poi spinge dal consenso conforta l'imprenditore tutti i giorni eh è piaciuto in realtà la preselezione viene fatta dai tecnici per tutto ciò che viene messo in votazione ha un suo fondamento ma viene portato poi a compimento attraverso un il consenso che viene dal dal pubblico e poi la parte finale eh raccogliere queste storie in un libro che siano cento storie di di successo dell'export italiano eh credo che sia una bella cosa per tutti cioè lascia un oggetto anche fisico perché proveremo a realizzarlo anche stampato eh e può rappresentare anche per l'associazione un bel un bello strumento di posizionamento bene quindi c'è stato un ottimo feedback dalla dalla rappresentazione avremo lo vedremo su qualche testata immagino no adesso poi magari insomma chiederemo di di ospitare questi contenuti anche in modo un pochino più organizzato il sito è carino è stato è piaciuto è semplice è essenziale magari metti qua sotto il link così che lo possono condividere chi vuole vedere eh premio export Italia punto it molto semplice allora lo segno io così che racconto una cosa siamo tre amici possiamo dire anche una roba che fa sorridere perché abbiamo dovuto fare un rebranding del progetto perché come era uscito eh abbiamo provato a depositare Oscar dell'export Italia ci è arrivata questa letterina degli avvocati da Los Angeles che che ci dicevano ci minacciavano sfriaccelli diciamo che l'abbiamo presa a ridere è come un buon augurio per cui abbiamo fatto un'opera di rebranding ma che alla fine concettualmente rimane la stessa cioè noi vogliamo andare all'Oscar ai piccoli medimprenditori che ci riescono che possono essere ad esempio per gli altri beh se come possiamo dire che se un'associazione piccola come un export manager con un'idea che ha avuto riesce a spaventare dei colossi negli Stati Uniti infatti è un buon segno se se il topolino spaventa l'elefante vuol dire che il topolino ha il suo peso. Suona bene. Va bene. Ok. Allora a venere ci ha messo il link del premio dell'export Italia sulla chat quindi potete vedere lo ripetiamo per chi lo vedrà e registrata quindi non vede la chat www.premioexportitalia.it e quindi anche da lì potremo poi vedere magari le news che si aggiornano le informative le news che vengono pubblicate anche da altri siti magari avremo degli aggiornamenti continui. Bene quindi la abbiamo sdoganato la parte la parte sarda no? Quindi lì è andata. Diciamo che adesso poi l'idea è quella che condivideremo è quella di lavorare un po' per inizio nel senso che è impensabile fare 20 progetti gemelli ma già avere delle aree omogenee può servire e poi arriviamo a chiudere un progetto che diventa come dire un asset nel patrimonio dell'associazione secondo me e quindi avremo un bagaglio di esperienze usabili per poter replicare su altre regioni non potremmo replicare per tutte le regioni ma ci sarà sicuramente l'esperienza. Io credo che all'inizio del anno faremo le finali nazionali usciremo con lì questo è il mio wish worth thinking. Ok bene buona bene quindi io direi che siamo quasi arrivati in fondo come tempi se non ci sono altre domande io vi segnalo che avremo ancora due talk prima della sosta estiva quindi ci siamo ancora per l'ultimo di luglio settimana prossima e la settimana dopo la prima di agosto saremo ancora presenti con i talk stiamo organizzandoli da adesso giustamente Giovanni Pecorari che segue tutta la parte organizzazione e pianificazione della scaletta editoriale è in ferie giustamente è giusto e doveroso che tutti noi a turno ci facciamo un po' di vacanza e auguro a tutti di potersi fare un po' di vacanza e ci vedremo la prossima tornerà quindi avremo ancora la sua presenza come supporto e basta direi che a questo punto possiamo salutarci vediamo gli aggiornamenti vedrete il video nei prossimi giorni pubblicato sul canale youtube che come sempre verrà integrato abbiamo superato i 200 video pubblicati quindi è un bello sforzo organizzativo e anche come risultati visibilità direi che con questo possiamo salutarci se non ci sono altre osservazioni buon weekend a tutti grazie alla prossima buona 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 serata e buon weekend alla piazza tu sei già uscito di casa sei già in piazza quindi sono già più di così invece si abbiamo detto che invece che smart working questo è il street working street working bene a presto un saluto grazie ancora marcello per il tuo intervento ci sentiamo ciao a tutti